Qual è la situazione Kowalski? Facciamo vedere a chi? Allo Gia Furbo Facciamo vedere come andiamo? Gia Furbo tu sei imbattibile Andiamo a vedere se riusciamo ad andare come i matti Gia Furbo guarda Sulle gambe, skipper sulle gambe, forza Andiamo Impostiamo giusto le traiettorie Attenzione perché la pista Si è un po' scavata rispetto a stamattina Rispetto a stamattina E' arrivato pure nello scavatore Esatto Attenzione skipper Ci sono molti salti skipper Attenzione teniamo le traiettorie Traiettorie skipper Sulle gambe A 건강ato Sulle gambe Sulle gambe Sto Spesso Spesso Sto Dio Furbo Sai fare questo esterno? Uh Uh Oh mamma Sulle gambe che cosa sulle gambe skipper ok traditorie perfette skipper attenzione qua teniamo la curva la velocità è molto buona teniamo traiettoria esterna skipper stiamo andando a cannone skipper dobbiamo riuscire a tenere il mezzo in curva il tono è perfetto i freni sono stati mollati punto della situazione punto della situazione kowalski punto della situazione kowalski testa a coda kowalski abbiamo fatto testa a coda kowalski no no ci sono anche tre persone kowalski dobbiamo stare attenti attenzione kowalski abbiamo esagerato abbiamo esagerato troppo con la velocità prima kowalski bisogna stare più attenti ci siamo kowalski abbiamo staccato tutti quelli dietro avanti dietro col culetto forza kowalski la velocità è ottima stiamo andando anche indietro stiamo andando verso la sitopia forza kowalski attenzione qui salti kowalski stiamo andando stiamo andando stiamo andando dietro col culetto kowalski a posto no mi chiamo skipper ah tu sei skipper vero ok oh 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 dietro col culetto skipem ok ci siamo guardi guardi ooo salto ok ok la traiettoria è ottima attenzione alla curva attenzione alla curva kowalski le velocità sono un po' troppo sostenute ho un po' troppo che ci passa e lo so kowalski qui è il rischio il rischio della madonna è vero? esatto kowalski attenzione al salto kowalski attenzione al salto kowalski attenzione al salto kowalski attenzione stiamo per arrivare siamo già arrivati qui siamo verso la fine ci si vede oh buongiorno vieni su vieni su col culetto vieni su col culetto vieni su col culetto su le gambine mai giù ok 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 ecco ci siamo freddo la facciamo ancora va bene? lo facciamo ancora va bene? no